Negli ultimi giorni sono accadute delle cose al quattro raccapriccianti Io ho detto non ci voglio credere, ho visto veramente lo schifo più assoluto E dico non ci credo che le persone realmente non hanno un minimo di cervello Sono rimasto scioccato, schifato, disgustato E non lo so neanche come definire queste cose Perché ci sono stati in molti casi schifosi Persone, oltre le cose Marmasse di persone tutte riunite allegramente a fare il loro c***o dei comodi Ok? Mentre loro vanno in giro tranquilli a creare le folle di gente, di persone Per andare a prendere qualcosa da bere o da mangiare Siete vergognosi Siete delle merda E fate veramente schifo Non avete rispetto per nulla e per nessuno Perché creare marmasse di persone in piazza Cioè noi che stiamo qua a casa E facciamo attenzione su tutto quello che noi facciamo Portiamo rispetto Usciamo solamente per necessità Usciamo anche per trovare qualche familiare E ci sta ragazzi Non bisogna creare assemblamenti A pure voi che create sti casini Tutto sto marmasse di persone Ma non vi spaventate Ma non avete paura di attaccarvi questo virus Ma il cocktail metterlo nel c***o No 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 No